velocissimi perché abbiamo un ospite eh sì, non vogliamo portare via tempo al nostro ospite perché non è che passa a trovarci tutti i giorni sarebbe bello sarebbe bello e io vorrei anche che lo facesse però insomma, l'abbiamo qui oggi temo che sia un attimino impegnato insomma in un sacco di cose stiamo parlando di Giovanni Allevi ciao Giovanni ciao, benvenuto grazie per la splendida accoglienza mi avete proprio messo a mio agio sono contentissimo di parlare con voi con le persone che ci ascoltano siamo felicissimi anche noi di averti qui ci volevo un album nuovo che è appena uscito uscito venerdì, Equilibrium che è il tuo nuovo album e finalmente insomma abbiamo con noi Giovanni Allevi è la prima volta che incontro Giovanni e davvero mi fa davvero molto piacere Equilibrium Giovanni, un album che partiamo dal titolo intanto il titolo dove salta fuori, perché Equilibrium? salta fuori dal fatto che circa due anni fa io ho avuto la sensazione di aver perso completamente l'equilibrio tanto che in tutte le sfere della mia vita però in particolare anche quello fisico tanto che non ero più in grado di stare in equilibrio su un piede solo è da lì che è iniziata la mia riflessione sul significato dell'equilibrio se fosse una condizione che noi comunque dobbiamo cercare e sono arrivato a questa conclusione no il meglio almeno il meglio di me l'ho sempre dato quando l'ho perso l'equilibrio ok bisogna sbilanciarsi in questa vita anche se tutti noi siamo portati a fare il surf sulle onde dell'esistenza l'album è un doppio CD doppio vinile c'è la versione deluxe infatti facciamola vedere anche a telecamere quella poi viene a casa con me ce la litigheremo ce la litighiamo di sicuro no in realtà ce l'ho già allora qui convivono anche un po' le tue due anime quella più classica quella più rock sì mi sono voluto divertire anche nella copertina dell'album a rappresentare le mie due anime c'è un direttore d'orchestra tutto compito con il frac che mi punzecchia con la bacchetta del direttore da una parte nell'altra spalla invece c'è un'altra rappresentazione di me un Giovanni Allevi una sorta di black block simpaticamente distruttivo che mi tira un riccio da quell'altra parte ecco il conflitto tra le due anime mi vede sempre in un equilibrio instabile che è un po' comunque il motore della mia musica perché la mia musica viene appunto dalla grande tradizione classica ma al tempo stesso contiene e plasma all'interno delle sue forme certi ritmi tipici del rock progressive soprattutto questo spirito un po' ribelle e sovversivo parliamo un po' di questo album perché ci sono allora abbiamo detto due LP per chi vuole ovviamente ad esempio acquistare il vinile oppure anche due CD che sono due CD diversi insomma sì allora fondamentalmente Equilibrium è il CD1 ecco dove ci sono io che suono il pianoforte in cinque brani da solo e in cinque brani accompagnato dagli archi dell'orchestra sinfonica italiana e qui io ho cercato di esprimere tutto quanto il mio mondo il CD2 è un film cioè no è un film cioè è una musica ecco però però quello che l'ha originato mi fa veramente pensare a un film contiene il mio concerto per pianoforte e orchestra in tre movimenti dove io in questo caso sono direttore d'orchestra oltre che chiaramente compositore e al pianoforte c'è un altro pianista che è Jeffrey Beagle l'americano virtuoso straordinario Jeffrey Beagle che insegna tra l'altro anche pianoforte alla Brooklyn Academy a New York e un giorno un suo allievo per questo è il film gli ho già mai detto la parola del film un giorno un suo allievo ha lasciato sul leggio del suo pianoforte quindi del grande maestro lo spartito di una mia composizione Jeffrey si è avvicinato incuriosito ha suonato quelle note e si è subito innamorato della mia musica in poche parole la sera stessa mi ha scritto una mail dicendomi cose bellissime e io mi sono sbilanciato dicendogli che avrei scritto per lui un concerto per pianoforte orchestra che adesso è dentro il cd suonato da lui e che già è stato eseguito in America una volta quindi potrebbe essere proprio un film è proprio la sceneggiatura di un film potremmo scrivere un film beh la tua musica è di forte impatto emotivo e c'è una canzone in particolare un pezzo in particolare in Equilibrium che è No Words è una canzone che è andata in un momento molto particolare lo scorso anno il 25 agosto 2016 il giorno successivo al terremoto nel centro Italia sì io mi trovavo quella notte ad Ascoli Piceno insieme alla mia famiglia quando siamo stati sorpresi da questa scossa violentissima oltre che intensa anche molto lunga la mattina dopo con sgomento abbiamo appreso che interi paesi a pochi chilometri da dove mi trovavo io non esistevano più parlo di Amatrice Accumoli Arquata del Tronto cioè sono tutti i paesi che hanno rappresentato la mia infanzia cioè io ci andavo a giocare da ragazzino e centinaia di vite erano state portate via da quella scossa allora per esprimere comunque il mio dolore ho trovato l'unico modo ho trovato l'unico modo sia quello di comporre un brano per pianoforte ed archi che ho chiamato No Words non ho nessuna parola non ho parole di fronte a un evento del genere e soprattutto gli archi rappresentano un grido un urlo che si fa potente proprio nella parte centrale invece il pianoforte descrive la vibrazione dell'onda sismica l'ho sentito è un brano di forte impatto anche senza sapere insomma da dove arriva tutta la storia di questo brano te ne accorgi subito che è un brano di forte impatto invece Flowers che è la canzone che stiamo per ascoltare possiamo pensare anche che sia il singolo ufficiale diciamo così chiamiamolo il singolo ufficiale dell'album utilizziamo queste terminologie contemporane molto radiofoniche di cosa parli invece Flowers diciamo così qual è stata l'ispirazione di Flowers allora intanto il 7 ottavi cioè 7 ottavi la ritmica fondamentale su cui è costruito Flowers che è una ritmica decisamente inconsueta in genere diciamo la canzone poggia su quattro quarti ecco invece 7 ottavi rende questa ritmica irregolare rende il brano vagamente altalenante e per me rappresenta perfettamente l'idea dell'equilibrio instabile in cui mi trovo fondamentalmente quasi sempre io e che voglio raccontare un po' nell'intero nell'intero album si tratta di un brano per pianoforte ed archi dove il pianoforte dialoga con gli archi piano piano poi alla fine gli archi prendono il sopravvento e si esprimono in una bella melodia dispiegata ed aperta tutto questo rappresentato non soltanto dalla musica ma anche dalle immagini da un video che adesso chi appunto ha l'occasione di vederci anche in tv può vedere che è un video davvero carinissimo guardatelo perché merita Giovanni Allevi su Radio Bruno questa è Flowers ecco in finale insomma bellissimo è vero Flowers noi intanto mentre ce l'ascoltavamo guardavamo insomma il video perché è davvero troppo bello insomma tra l'altro fatto da Marco Pavone Marco Pavone è un ragazzo bravissimo un ragazzo bravissimo un grande talento dell'animazione 3D con cui collaboro da tanto tempo è già il terzo video che facciamo che facciamo insieme lui come me ha anche lavorato in filosofia allora ci siamo divertiti a cercare di una doppia lettura di questo video che piace ai bambini però possiede almeno contiene al suo interno degli elementi di grande attualità c'è Trump c'è Kim Jong poi c'è anche rappresentato il problema dell'accettazione della diversità l'accettazione anche delle minoranze ecco insomma sono tutti elementi a cui tenevo venisse data un'attenzione particolare beh insomma se non ci state guardando in tv ma ci state ascoltando per radio andate a cercare il video di Giovanni Allevi Flowers sul suo canale YouTube perché merita veramente oh torniamo a te parliamo di quello che è successo qualche mese fa l'anno scorso hai subito un intervento agli occhi e questa cosa ha implicato il fatto che hai composto per un certo periodo in una condizione completamente nuova praticamente al buio sì io mi trovavo in una città a sud del Giappone stavo facendo l'ultima data l'ultimo concerto del tour del Japan tour e a metà del concerto è scesa una tenda nera sul mio campo visivo ho subito immediatamente capito che si trattasse di un distacco di retina ho anche capito che era un po' più complesso di quello dello stesso problema che mi era già capitato dieci anni fa nell'altro occhio allora però per amore della musica devo dirlo e anche per per amore del pubblico che era lì non ho interrotto il concerto mi sono sollevato ho raccolto un applauso appunto tra un brano e l'altro e ho detto gambatte Giovanni che significa forza in giapponese forza coraggio vai avanti e anche poi dopo il concerto non mi sono neanche sottratto alle foto agli autografi perché erano talmente belli ero talmente felice di essere lì la mattina dopo sono stato operato d'urgenza l'equip dell'ospedale ha cercato comunque di fermare la situazione ecco mi dicono che devo aspettare quasi un anno per capire prima per capire se ci sarà un recupero ma mi hanno detto anche di non farmi grandi illusioni insomma ma non è questo il problema non è questo l'elemento fondamentale ciò che davvero conta è che io ho fatto da allora esperienza di una nuova dimensione dove la vista viene messa un pochino da parte e subentra il tatto subentra l'udito subentra l'intuito parte dei brani di equilibrio ma di questo album io le ho scritti in questa nuova dimensione e probabilmente la musica ne risente si sente proprio uno spazio uno spazio e poi anche tutte le registrazioni le ho fatte un po' tra virgolette al buio ecco io direi di fare una cosa prima di di rientrare e di salutare Giovanni tanto cinque minuti ancora di tempo spero che li abbia andiamo in pubblicità perché vediamo che i tempi sono quelli della pubblicità e poi rientriamo con una canzone che tra l'altro ha scelto proprio lui dopo anzi fra poco scoprirete anche di quale canzone si tratta e poi insomma ci saluteremo con calma dopo ti va? ti va bene? ok allora un attimo di pausa per la pubblicità e poi ci risentiamo fra poco qui su Radio Bruno a distanza di anni questo pezzo e questo video anche sono ancora ipnotici del resto lui Michael Jackson genio allo stato puro che meraviglia che bello black or white è canzone che ci hai segnalato tu è una delle preferite sì perché io ieri o l'altro ieri durante un istor mi sembra a Roma sì sì a Roma è venuta una giovane donna che mi ha fatto un complimento bellissimo lo posso dire lo posso dire questo complimento lei mi ha detto io ho seguito 20 concerti di Michael Jackson sono andato in America l'ho seguito dappertutto era il mito e mi ha detto ho rivisto in te lo stesso spirito c'è qualcosa in te che mi ricorda Michael Jackson che è una cosa assurda perché fondamentalmente insomma si tratta di di un un approccio alla musica credo differente non lo so però questo questo complimento veramente mi ha veramente fatto molto piacere guarda non sarà magari come quel complimento però te ne leggiamo un altro preso a caso da un'ascoltatrice che ci ha appena scritto questo messaggio mitico allevi fantastica la sensazione di pace tranquillità amore e gioia che trasmetti non solo con la tua grande musica scritto in maiuscolo ma anche con la tua personalità sai fantastico ti vogliamo tanto bene ma che tesoro che bello ti ha aggiunto anche grazie di esistere ma guarda ma io poi anche qui mi sorprendo no no cioè mi sorprendo accolgo proprio con grandissima gioia questo questo complimento se pensi che la serenità la pace che trasmetto nasce proprio da un buio perché sono veramente arrovellato veramente pieno di ansie che bello che si quando arrivano queste cose che traspare questa questa sensazione tra i prossimi impegni il 15 novembre ricordiamo si terrà la premiera europea del tour di Equilibrium la premiera si terrà a Milano al teatro dal verme poi parte il tour in dicembre che andrà avanti fino ad aprile dell'anno prossimo io ricordo solo alcune date che sono il 4 gennaio a Bologna a Sarai al teatro d'Use il primo marzo a Bergamo al teatro a Kreberg e il 25 di marzo a Firenze al teatro Verdi mentre per quello che riguarda l'in-store visto che sei in giro insomma per diverse storie di Italia ti piace? oh mamma mia che bello finalmente le persone me le abbraccio è bellissimo l'incontro e poi sto cominciando a ricevere i primi commenti anche le prime emozioni dati dall'ascolto di Equilibrium comunque stavi dicendo stavo dicendo che ti aspetta i tuoi ascoltatori ti aspettano questa sera alle 18.36 alla Feltrinelli di Bologna in piazza di Porta Ravegnana mentre domani alle 18.30 ad esempio sarai a Firenze alla Feltrinelli di piazza della Repubblica beh che dire grazie di essere stato con noi grazie a Giovanni Allevi che ha portato veramente il sole nel nostro studio ma io vi devo ringraziare soprattutto voglio ringraziare le persone che hanno avuto la pazienza di ascoltarmi in questo momento e ringrazio davvero per il grandissimo entusiasmo che sto ricevendo proprio durante questi store a seguito dell'uscita di Equilibrium davvero grazie avremmo voluto mettere un pianoforte qui ma ce l'hanno detto tardi e dovemmo rifare gli studi ma la prossima volta magari ti facciamo trovare organizzati Giovanni grazie ancora è stato un piacere siete bellissimi siete bellissimi grazie grazie ancora grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti